Istanbul, siamo in Istiklal-Kardesi, una delle vie principali che si snoda da piazza Taksim. Stanno spruzzando due idranti, stanno spruzzando gas, acqua, urticanti e gas urticanti. L'aria sta diventando veramente irrespirabile. Anche via Istiklal viene chiusa da entrambi i lati, sia davanti che dietro. Ricordiamo che Gazipark è già stato sgomberato e restiamo finché possiamo con i manifestanti qua a Istanbul. Grazie!